Due frasi per descrivermi la prima giornata di Ecomodo Sicuramente emozionante, innovativa e quindi un viatico per il proseguo di questa fiera che sarà sicuramente positiva La eSmart Hub, la soluzione di Compute Solution nata per fidelizzare il parco clienti La piattaforma che oggi possiamo dire che ha raggiunto una maturità importante Assolutamente, infatti noi parliamo proprio di una piattaforma collaborativa a tutti gli aspetti, no? Cioè quella parte che noi vogliamo chiamarla come scrivania sviluppare Se dovessi descrivere in due parole la giornata di oggi Una bella giornata Grazie